Ma come io sono qua i ricchi e poveri? Ma vi piacciono veramente i ricchi e poveri? No no ma va bene, fammi vedere qualche bella foto dei ricchi e poveri, ne abbiamo diverse Qua c'era ancora l'occhiena che dopo ha fatto uno sgarro, se ciulata il marito della brunetta e l'hanno mandata all'isola dei famosi, vi ricordate? Dopo fammi vedere un'altra, un'altra con la brunetta Come no? No questo è brunetta dei ricchi e poveri, cioè dei poveri perché ci farà diventare tutti i poveri Ecco questa è la vera brunetta, ma che poi io prendo in giro i ricchi e poveri Ma signori, i ricchi e poveri sono stati l'unico gruppo italiano veramente internazionale E' vero o no? Però prima, adesso vi faccio capire perché Mamma, mamma, mamma Maria Questa canzone è un testo della Madonna Cioè ricchi e poveri Cioè ricchi e poveri Cioè ricchi e poveri